guardate i palloncini possiamo prendere i palloncini dall'albero Jack non riesce ad arrivare ai palloncini è troppo basso per arrivarci così è meglio sono più alta guardate i palloni ho una sorpresa per Jack dietro la schiena grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Le bolle! Wow, ci sono delle bolle che escono da qui. Grazie a tutti. Ci vediamo! Grazie a tutti.